Ultima ora, un uomo si è gettato dal quinto piano. Nella sua camera, gli investigatori hanno ritrovato soltanto i suoi capelli. Aveva appena usato uno shampoo anti-caduta. Cioè, quindi si è rimasti lì. Lui si è buttato... A mo' di parrucchino, diciamo. Se li si è rimasti fermi. Se li si è rimasti fermi. E li è scoppiuti. Perché non scendi. Ah, questo era spaziale, un attimo che sto lacrimando. Franco! Ma che fai con quel crocifisso davanti al pc? Sto cercando di convertire un file. Preferivo l'anti-caduta. Vabbè, ormai dopo l'anti-caduta ce l'andiamo a casa. Sai lui che stiamo dicendo, buonanotte.